Era il 24 ottobre 2012 quando il crollo del muro di via delle Torri costrinza la chiusura dell'importante arteria cittadina che ha provocato finora disagio al traffico veicolare. E stamani a distanza di 40 giorni sono stati consegnati i lavori per il ripristino dell'importante via alla presenza del sindaco Marco Zambuto e dell'ingegnere capo del genio civile di Agrigento Mimmo Armenio. Dal crollo che è avvenuto il 24 ottobre in 40-50 giorni siamo già alla consegna di lavori quindi siamo anche in anticipo rispetto ai tempi previsti perché avevo preventivato che i lavori potessero iniziare a gennaio ma grazie anche alla sinergia e alla sensibilità del commissario per l'emergenza idrogeologica sono state accelerate tutti i tempi e oggi dopo 40 giorni dal crollo già consegniamo i lavori. Che tipo di interventi sono previsti? L'intervento consiste nella realizzazione a terco del paramento murario di una paratia in calcestruzzo che verrà poi chiodata al costone di Tufo e successivamente rivestita con del pietrame in modo da ridare l'aspetto originario all'opera. Verranno effettuate anche dei drenaggi in modo da permettere l'allontanamento delle acque meteoriche dal muro. Ampia soddisfazione ha espresso il sindaco Zambuto sottolineando l'ampia intesa operativa tra il Comune, il Genio Civile e la Regione. È un intervento che si realizza grazie a un'azione di sistema fatta tra il Comune, il Genio Civile e la Regione Siciliana. Siamo riusciti a intervenire anche andando a stralciare un progetto più ampio che avrebbe richiesto molto più tempo nella fase dell'approvazione e quindi anche in questo senso ritengo che riusciamo a dare una risposta in tempi più rapidi possibili rispetto a un'emergenza che si è venuta a rappresentare e creare in città.